Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Gianni94 e benvenuti in questo nuovo video vlog. Ragazzi, prima di iniziare, voglio dire cazzate e stronzale varie, e novità, sono anche per le novità a parte per stronzale, e vi ringrazio ragazzi per il supporto che mi state dando, siamo arrivati a 59 iscritti ragazzi, veramente grazie di cuore, e se arriviamo ragazzi a 60, vi farò vedere le maglie del canale ragazzi, partiranno proprio per business, delle maglie del canale, quindi ragazzi mi raccomando, arriviamo a 60 iscritti e inizierò a far vedere le maglie. Poi un'altra cosa ragazzi, sabato e domenica e lunedì ci sarà il Comic Con a Salerno, al complesso di Santa Sofia, quindi ragazzi se volete incontrarmi ci vediamo lì, tranne la domenica e lunedì, perché la domenica vorrei fare una festa qui a casa, perché festeggio, e lunedì è il mio compleanno, quindi farò una cosa in famiglia e non credo che ci riuscirò ad andare al Comic Con, però sabato se tutto va bene possiamo vederci lì, non c'è problema. Poi ragazzi un'altra cosa, ultimamente sta avvenendo questa pista delle live ragazzi, mi interessa le live, quindi ogni tanto, ogni morte di Papa farò una live, sputato come un Cristo sputato, e quindi ragazzi se volete sfortermi, mandarmi a quel paese o anche giocare con me, o a farmi complimenti per la mia bellezza suprema, possiamo vederci su queste live che farò. e quindi spiegarsi. Poi ci sono anche su Omicol, quindi ragazzi a maggior parte delle volte farò anche qualche video su Omicol, quindi chi vuole vedere, chi vuole conoscermi, oppure fare qualche foto, qualche cosa, può benissimo andare su Omicol e scrivere Giammi94 sulla barra quella da per trovare e entrare su Omicol. Senza Epsilon ragazzi, con le AI normale, Giammi94 tutto in corsivo. Va bene ragazzi? Poi vi farò vedere in un video meglio, non vi preoccupate. Ringrazio ancora ragazzi tutti i miei iscritti che mi stanno dando una mano, ringrazio Giammi500 per chi mi segue, Just Falco e molti altri ragazzi, scusatemi se non mi ricordo ma c'ho una memoria come un bradico rincoglionito, quindi grazie ancora per tutto il supporto che mi state dando e ci vediamo se va tutto bene buttarli, forse con un video su un giochino molto 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 bello ragazzi. Bene a tutti, ciao!